Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Ricordiamo che in FIPILI sono rinviati di alcune settimane i lavori tra Ginestra e Montelupo nei due sensi di marcia. Le tratte interessate saranno quelle comprese tra i chilometri 14,8 e 17,4 in direzione mare e 17,5 e 15,100 in direzione di Firenze. L'ultima pagina per il traffico era il volo Firenze-Amsterdam delle 6,30 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo dalle 8 alle 12 la chiusura di una tratta di via Fortini per un intervento di manutenzione ordinaria del muro del parco di Villa di Rusciano. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!